La porchetta rifatta, che cos'è sta porchetta rifatta? Praticamente la porchetta, prima si faceva con la porchetta avanzata del giorno prima e viene ripassata nel pomodoro e nei peperoni fritti e poi viene amalgamata, riscaldata e servita. Ma c'è sempre stata una novità? No, c'è sempre stata, però non è stata mai proposta, è proposta comunque nel panino. Perché sembra che sia una ricetta di riciclo, nel senso per non far andare a male la porchetta che avanza allora viene riproposta a casa in questa maniera, qui a Campli si usa tantissimo. Noi quest'anno l'abbiamo proposta come prima volta, sì. È la prima volta che viene qui a Campli ed è proposta qui durante la Sagra, se no a Campli. È ricercata, comunque piace. I camplesi sono abituati a questa cosa. Possiamo fare tutto dentro casa, insomma, la porchetta rifatta. C'è anche il peperone, vedo. Fritto. Insomma, una roba leggera. Leggera, sì, sì, leggera. E poi voi lo mettete dentro a questo panino? Lo mettiamo nel panino oppure abbiamo anche la porzione al piatto. Panino, un classico panino o qualcosa? Perché lo vedo un po' scuro. No, no, è un panino di farina normale. Quanto costa? 6 euro. Grazie.